In quest'altro esempio di urto obliquo abbiamo due biglie su un tavolo da biliardo che si scontrano avendo due quantità di moto iniziali PA e PB che sono queste due frecce, due vettori e poi emergono dall'urto con queste altre due quantità di moto finali PA' e PB'. Questo punto interrogativo sta a significare che dobbiamo verificare se questo disegno è corretto e lo è se la quantità di moto totale prima dell'urto è uguale alla quantità di moto totale dopo l'urto cioè se P totale e P totale primo sono due vettori uguali, perciò dobbiamo sommare le due quantità di moto prima dell'urto e dopo l'urto. Le due quantità di moto sono questi due vettori, li riportiamo mettendoli con l'origine in comune in questo disegno. Quando noi li mettiamo con l'origine in comune questi due vettori non dobbiamo modificarli né nella lunghezza né nella direzione cioè nella loro inclinazione. Questo vettore deve essere traslato qua e quest'altro vettore PB deve essere traslato identico qua. Adesso che hanno l'origine in comune con la regola del parallelogramma sommiamo queste due quantità di moto e abbiamo la quantità di moto totale che è questo vettore verde. Facciamo la stessa cosa con le quantità di moto finali quindi trasportiamo senza modificare né lunghezza né inclinazione, trasportiamo questi due vettori PA' e PB' in quest'altro disegno. Sommiamo le due quantità di moto finali con la regola del parallelogramma e se troviamo che la quantità di moto totale, questa freccia verde, è uguale alla quantità di moto totale prima dell'urto, allora vuol dire che il disegno è fatto bene e cioè si è conservata la quantità di moto. In questo caso sembra di sì perché la quantità di moto totale dopo l'urto è venuto questo vettore con l'ondina che sembra uguale alla quantità di moto prima dell'urto. Tuttavia date le due quantità di moto iniziali possono uscire le due biglie, uscire dall'urto anche con quantità di moto diverse da prima, quindi a parità d'ingresso, diciamo così, anche le uscite invece possono essere diverse. Per esempio le due biglie potrebbero uscire con queste altre due quantità di moto, PA' e PB' diverse da queste disegnate qua, cioè potrebbero uscire con queste altre due quantità di moto d'uscita, infatti PA' è questa e PB' è quest'altra. Perché potrebbero uscire anche in quest'altro modo, perché anche queste due quantità di moto finali soddisfano la conservazione della quantità di moto totale. Se infatti andiamo a sommarle, PA' e PB', troviamo che la quantità di moto totale, P' tot, è sempre la stessa ed è uguale alla quantità di moto totale iniziale, quindi P tot. Quindi vediamo che a parità di quantità di moto d'ingresso non c'è una sola uscita possibile, ma in realtà ce ne stanno infinite, perché ci sono infinite uscite, quindi infinite coppie di quantità di moto, PA' e PB', che soddisfano la conservazione della quantità di moto totale. Dunque con le stesse quantità di moto, PA' e PB, dello stesso disegno di prima, l'uscita per esempio potrebbe essere questa, anziché quest'altra. Il motivo per cui abbiamo infinite possibili uscite è che gli angoli di uscita dipendono da quanto le biglie si colpiscono in pieno o si colpiscono di striscio, cioè in pratica dalla porzione di biglia che viene colpita. Per esempio potremmo avere la prima uscita quando le due biglie si colpiscono un po' più di striscio e la seconda uscita quando le due biglie, comunque che arrivano con le stesse quantità di moto, però nel secondo caso si colpiscono magari più piene.